Al centro del continente europeo è arrivata di nuovo la guerra, con il suo carico di distruzione e morte. Dove c'erano vita, sogni, desideri, progetti, tutto è sospeso e precario. Le esistenze delle persone che abitavano quelle terre hanno subito un'improvvisa battuta di arresto e lottano adesso per la nuda sopravvivenza. Su quei confini, su quelle frontiere, in mezzo all'annientamento, le chiese chiedono pace e soccorrono chi ha dovuto abbandonare la propria casa. Ancora una volta Mediterranean Hope, progetto rifugiati e migranti della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, è presente e attivo e rivolge il suo sguardo verso tutti coloro che non hanno più nulla in Ucraina e nel mondo, perché la guerra vicina a noi rende ancora più insopportabili le guerre lontane da noi. Ne parliamo in questa puntata di Protestantesimo, in onda su Rai 2, domenica 29 maggio, alle ore 8 e successive repliche. Continuate a seguirci su Facebook, Twitter e Rai Play, dove potrete vedere questa e tutte le altre puntate.